C'è qualcuno? Magnus! Non dovevi parlarmi? Che bello vederti, Alec. Non ero sicuro che venissi. Lo sai che detesto bere da solo? Non sono qui per questo. Hai delle informazioni sullo stregone che ha fatto la magia su Jocelyn? Sto facendo delle indagini, ma non abbiamo finito la conversazione dopo il processo di Easy. Riguardo alle tue nozze. Non c'è alcun bisogno di finirla. Sto per sposarmi. Abbiamo una concezione del matrimonio molto diversa. Io sono un Shadow Hunter. È una questione di famiglia, di tradizioni, di onore. Onore? Dov'è l'onore nel vivere una farsa? Di cosa stai parlando? Per esempio, dell'amore. Anche gli Shadow Hunters si innamorano, Alec. Dimmi che sei innamorato di Lydia. E io la smetterò. Non lo so. Perché insisti tanto? Così riesci solo... Tu... Non fai che confondermi. La confusione è il primo segnale. È così che si scopre che c'è qualcosa sotto. Le emozioni non sono mai bianche o nere. Sono più come dei sintomi. Rimani senza fiato ogni volta che entrano nella stanza. Il cuore ti batte più veloce quando ti passano accanto. La pelle ti formicola quando riesci a percepirne il respiro. So che provi quello che provo io, Alec. Non hai idea di quello che provo. Quindi stammi lontano. Questo è solo un gioco per te. Non è vero? Flirti, ti diverti. Usi la magia. Ma alla fine, che cosa rischi? Anche se provassi qualcosa per te. Dovrei rinunciare a tutto per noi. Devo fare quello che è giusto per me. Potrai perdere la mia famiglia, la mia carriera, ogni cosa. Non riesci a capirlo. Hai una decisione da prendere. Non te lo chiederò di nuovo.